Giornata recisiva per il comune di Darfo Boario Terme, ultima chiamata alle urne per i cittadini che da stanotte avranno il loro nuovo primo cittadino. I 13 seggi allestiti in tre sezioni a Darfo, ex convento, due a Corna, scuole elementari, due a Derbanno ed un seggio per ogni frazione di Montecchio, Angone, Gorzone, Fucine, Pellalepra e Boario sono stati aperti da questa mattina alle 7 fino alle 23 per il ballottaggio delle elezioni comunali. Dal Ministero dell'Interno sono giunti i primi dati inerenti all'affluenza nella mattinata di questa domenica 26 giugno. Alle ore 12 il 20,44% dei cittadini aveva espresso la propria preferenza. Il voto è secco, si sceglie uno dei due candidati tracciando una croce sul nome o sul simbolo della lista di appartenenza. Darfo Boario Terme conta ben 11.800 elettori e per la prima volta nella sua storia di città camuna, unica nella provincia bresciana, è stata chiamata nuovamente alle urne per il ballottaggio. Una sfida a due tra Dario Colossi e della Civica Progetto Vero per Darfo Boario Terme che nella prima tranche delle elezioni dello scorso 12 giugno aveva ottenuto 2.818 preferenze e di 39,26% dei voti validi e la candidata Paola Bondio della Civica che nel primo turno aveva ottenuto 2.149 preferenze con il 29,94% dei voti validi. Lo spoglio sarà avviato subito dopo la chiusura dei seggi, dunque inottata dovrebbero esserci risultati definitivi con il nome del nuovo primo cittadino che per i prossimi 5 anni prenderà le redini della cittadina termale. Con il ballottaggio di Darfo Boario Terme di questa domenica si concluderà così la tornata elettorale delle comunali 2022 che due settimane fa ha già designato 10 primi cittadini in altrettanti municipi bresciani.